Dopo tutto il dissing intercorso negli scorsi giorni fra i rapper Baby Gang e Rondo da Sosa Baby Gang si presenta a San Siro sotto casa di Rondo Per registrare una diss track nei suoi confronti Fra l'altro in questo video è presente anche Saki, amico storico di Rondo Anche se i due avevano litigato e si sapeva già questa cosa E quindi vi lascio sia i filmati di questa cosa qua Che alle stories di Baby Gang e di Saki Dove vi dicono la loro riguardo Rondo Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Noi ci vediamo un prossimo video Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti